Comincia il match tra Valcedonia e il Real Ignoranza Costa al centro, c'è Arenoso solo e sblocca il risultato Arenoso 1-0 Real Ignoranza Lorenzo perde palla, attenzione Valceo e c'è il gol di Di Maria 1-1, pareggio, firmato Di Maria Com'era palla farina, prova il tiro di prima intenzione, buona l'idea Centrale Finta il tiro, Castaldo in mezzo A spazio, si gira, c'è la rete Il 2-1, firmato Testa Guzza Anzi no, è Capone che si gira benissimo in area Lorenzo a largo gioco per Castaldo Il tiro diventa un assist per Arenoso che prova la girata Balla alta Capone, spazio per il tiro sulla respinta Maruccio Segna il 3-1 Poi serve benissimo Caputo tra le linee Marullo, velocissimo in area Clamoroso errore di Marullo, sembrava un gol già fatto Arriva Castaldo il tiro sinistro, ribattuto, c'è ancora Capone Sbagliato completamente il cross E finisce così 3-1 in favore di Real Ignoranza Sentiamo ai nostri microfoni i protagonisti del match Siamo qui con Testa Guzza, il capitano del Real Ignoranza Vittoria No, vai, ti faccio me Siamo contestando in Staglio Giuno dei Migliori nella vittoria del 3-1 del Real Ignoranza Una partita diciamo abbastanza abbordabile Stata dura però In Stato 3-1 parla chiaro Forse potevano essere anche di fine Grazie a tutti